Un saluto a tutti. Buongiorno a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimana di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiozzalorossinitv.it. Iniziamo subito con la prima notizia, perché dopo le presentazioni delle settimane precedenti, relativa al nuovo portale turistico e agli itinerari cicloturistici, il Comune di Vallefoglia, con una conferenza stampa, ha presentato il nuovo progetto di riqualificazione relativo al Monte di Colbordolo. Un progetto pensato da alcuni cittadini in ottica di un futuro all'insegna dello sport e della convivialità. Le caratteristiche sono quelle di rilanciare le attività turistiche e paesaggistiche e ambientali del Monte di Colbordolo. Il Monte di Colbordolo è stato un luogo, nella storia era un monte tutto brullo, il sindaco di allora gli venne in mente di fare una piantumazione, quindi è un monte oggi tutto piantumato, di boschi eccetera, e diciamo c'erano negli anni del boom economico, speriamo che ritorni, tre ristoranti, insomma era un luogo piacevole di aggregazione di persone che andavano. Si è realizzato il circuito degli assi con Gimondi, i grandi campioni del ciclismo, attorno al Monte di Colbordolo, con l'arrivo nel monte, quindi l'idea è ridare una centralità al Monte di Colbordolo, che è uno dei punti più importanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale, storico e culturale della città di Vallefogli. In secondo luogo, ma questo lo diremo a sé, presenteremo a breve un progetto di quasi due milioni di investimenti sul Monte di Colbordolo e Monte Fabberi di depurazione e di metanizzazione, cioè di qualità ambientale delle zone collinari. Praticamente al centro c'è la valorizzazione del Monte di Colbordolo, un ambiente fantastico che purtroppo in questo momento di pandemia è stato in modo quasi naturale rivisitato dai cittadini del luogo. Si vuole valorizzare ancora di più mettendo al centro le famiglie e lo sport. In questo momento c'è una valorizzazione enorme delle bike, dell'andare in bicicletta, grazie anche al discorso della pedalata assistita e delle bici elettriche. Molta gente si è avvicinata a questo sport e il Monte di Colbordolo, con le sue altezze e la sua centralità vicino alla costa è facilmente fruibile da molti turisti e anche locali. Abbiamo pensato innanzitutto a un discorso a livello di sport, perché durante questa pandemia, come abbiamo visto, c'è stata una crescita esponenziale a livello di acquisti di biciclette. La gente ha cominciato anche a riassaporare il territorio, quindi con passeggiate, trekking, queste cose qua. E quindi abbiamo pensato a questa cosa sia per i più piccoli, pensando di fare una pista apposita per bambini, per avvicinarli a questo sport, e utilizzare vari percorsi che magari in passato usavano, che ne so, cacciatori, passeggiatori lungo i vari boschi della zona e quindi diciamo di far conoscere anche ad altre persone questi bellissimi percorsi immersi nel bosco. Poi abbiamo pensato anche di riqualificare l'area anche a livello turistico, visto che abbiamo la bellissima Urbino qui vicino, la bellissima Montefabbri come centro storico e ci siamo detti perché no creare magari un'area camper di sosta sul monte, un'area barbecue dove magari i turisti possono fermarsi o anche la gente del posto quando questa pandemia ci darà l'opportunità di riassembrarci tutti insieme e quindi magari, che ne so, cenare sul monte, approfittare magari di qualche chiosco, bar nella zona per stare insieme e respirare un po' di aria buona, dai, perché comunque qua siamo a 400 metri d'altezza, ci sono dei bei panorami e tutto qua. E dall'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2020 arrivano buone notizie per il Comune di Montellabate. Infatti, oltre ai contributi erogati dalle Governo al Comune per l'emergenza Covid di oltre 480 mila euro, a settembre lo stesso Comune ha incassato un contributo superiore ad un milione di euro dalle Ministero dell'Istruzione per la costruzione della scuola di Osteria Nuova. I progetti futuri però non terminano qua, come ci spiega in questa intervista il Vice Sindaco Luca Faroni. A fine aprile abbiamo approvato il rendiconto 2020 e dal bilancio, oltre alle solite voci che ci sono tutti gli anni, abbiamo registrato 480 mila euro di contributi che sono arrivati dal Governo Conte che il Comune di Montellabate ha speso per l'emergenza Covid. Sono stati distribuiti buoni spesa alle famiglie in difficoltà per oltre 90 mila euro e abbiamo acquistato prodotti per la sanificazione e anche arredamenti che si sono resi necessari per adeguare le strutture sia alle scuole ma anche al Comune per affrontare l'emergenza Covid. Inoltre sono stati acquistati anche tutti le mascherine e gli altri prodotti di sanificazione e anche delle dotazioni informatiche che sono state date in uso, in comodato d'uso, agli alunni della scuola media e anche delle scuole elementari che ne avevano bisogno. Questo, quello che è stato fatto, quello che invece sarà fatto anche perché sono arrivate risorse dal Ministero dell'Istruzione ma non solo? Sì, infatti a settembre abbiamo incassato un contributo di 1 milione 89 mila euro che hanno permesso di avere un avanzo di circa 4 milioni e di questi ne utilizzeremo oltre un milione appunto esclusivamente di risorse proprie senza del Comune, senza dover attingere a mutui per fare diverse opere. Avevamo già elaborato un progetto per completare il secondo stralcio dei lavori al campo sportivo di Osteria Nuova che inizialmente era previsto con mutuo, invece finanzieremo interamente appunto con queste risorse che sono entrate a fine 2020. e inoltre stiamo partecipando ad un bando di gara del Ministero dello Sport per il bando Sport e Periferie il quale doveva chiudersi a inizio anno ma poi è stato prorogato per il Covid e speriamo di avere altre risorse che finanzino questa opera. Faremo i marciapiedi sulla provinciale per circa 300 mila euro e nello stesso tempo verrà Barchi Multiservizi, provvederà a rifare la condotta dell'acquedotto che passa sotto i marciapiedi, quindi verrà sistemato un po' tutto il percorso da Via Lunga fino alla rotatoria che c'è all'ingresso di Osteria Nuova e invece nelle altre frazioni attrezzeremo delle aree all'aperto per fare attività fisica sia a Montelabate con delle attrezzature per fare esercizi fisici nell'area ex Sgambatoio in Via Branca e ad Absella faremo un campetto dietro adiacente al campo da basket parrucchiale faremo un campetto da pallavolo. Oltre a questo un'altra cosa importante che poi dopo eseguiremo prossimamente sarà l'incarico ad un architetto per progettare il parco Orburg a Montelabate perché vorremmo riqualificarlo e rifare un po' tutta l'area che necessita sia di parcheggi ma anche di un miglioramento perché così com'è viene usufruito lo spazio solo nel periodo estivo e non è il massimo per quando viene utilizzato. E ora è il momento dedicato allo spazio segnalazioni. Dopo il servizio andato in onda proprio qua, poco più di un mese fa in merito alla segnalazione dell'associazione Enale Pesca riferita ad alcune anomalie presenti nell'asta fluviale delle fiume Foglia e riguardanti in questo caso le zone di Montecchio, Bottega e Montelabate la stessa associazione ci ha inviato questa settimana nuovi video relative all'inquinamento delle fiume a dimostrazione di come la situazione non sia affatto migliorata in queste settimane. Da come si può notare nelle video, sottolinea l'associazione le acque delle fiume si presentano con un enorme tratto nero a dimostrazione di quanto l'acqua sia in pessimo stato. Ed in merito proprio alle vicissitudini riguardanti le fiume Foglia l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con a capo il suo presidente Palmirucchielli ha scritto al Ministero per la Transizione Ecologica e alla Regione Marche auspicando in un finanziamento delle progettualità presentate attraverso il contratto di fiume e perfettamente in linea con quanto chiesto dall'Europa. Con il contratto in essere si sono posti tre obiettivi principali il miglioramento dell'asta fluviale attraverso il collettamento e la depurazione lo sviluppo della pista ciclopedonale, la ciclovia delle Foglia incrementando anche la connessione della rete ecologica alla scala locale per implementare la fruibilità e la valorizzazione dei beni storico-culturali ed ambientali il potenziamento della banda larga e autoproduzione di energie rinnovabili quale nuova visione di sviluppo locale di elevata sostenibilità per il rilancio dell'entroterra. E durante il weekend appena trascorso è stato presentato a Tavuglia il nuovo Junior Camp Tonino Benelli dedicato proprio alla memoria del leggendario pilota un progetto che ha preso vita grazie alla nuova pista da motocross dove giovani ragazzi e ragazze potranno imparare a guidare e ad allenarsi. Sentiamo le parole dei protagonisti. Diciamo che oggi in questa giornata facciamo un cambio di gestione di una pista che è già stata inaugurata un paio di anni fa che è dedicata in particolare ai ragazzini e ai bambini che si vogliono approcciare a uno sport che è bellissimo e che è quello del cross. Per i bambini questo è come un parco giochi perché permette loro di svolgere questa attività con grande divertimento sotto la supervisione di persone capaci di insegnare un'attività che è importante sì ma va attenzionata molto per la salute dei ragazzi e qui ci sono tante persone con dei ruoli che sono in grado di affrontare tutti i temi di questo sport. Devo dire che a Tavuglia ormai siamo conosciuti per attività motoristiche e questo ci fa sicuramente molto piacere. C'è un grande fermento qui, ci sono molti giovani, ci sono tante ragazze anche giovani donne e questo mi fa particolarmente piacere. Devo dire che è una giornata molto bella all'insegna dello sport e soprattutto dell'aggregazione, dell'inclusione, tutte belle parole che ultimamente sfuggono dalla realtà però in questo caso vengono concretizzate. Io devo ringraziare moltissimo due soci del Motoclub che sono Davide Cecchini e Stefano Dini che ci hanno dato la possibilità di riprendere questa pista che era stata dismessa così da poter fare in modo che i ragazzini innanzitutto si avvicinino al motociclismo in maniera sicura anche perché qui all'interno di questa pista si può girare solo con la tessera sport della Federazione Italiana Motociclistica e quindi con tutte le assicurazioni e le cautele della situazione e anche perché appunto così togliamo anche i ragazzini secondo me da in mezzo alla strada. Tutto il progetto del Junior Camp è nato dalla passione che abbiamo per questo sport il motocross e per dare la possibilità a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport soprattutto i ragazzini di poter girare in un circuito chiamiamolo semplice senza tanti ostacoli e pericoli nella massima sicurezza. Il circuito l'abbiamo fatto omologare quindi è stato riconosciuto sia dal CONI che dalla Federazione ed è riconosciuto come il circuito di quinto livello per allenamenti. Vediamo già questa mattina tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di andare in pista. Sì, si sono alzati alle 7 e mezza per essere qui alle 11, perciò sono molto propensi a usare questa cosa. Sì, gli piace molto perché risulta semplice, per loro imparano e noi li seguiamo nella loro sviluppo di crescita di andare in moto e li seguiamo fin quanto possiamo. Devo dire che ormai da diversi anni come Regione Marche abbiamo approvato appunto questa legge che individua la Regione Marche come un territorio dove occorre valorizzare e promuovere la cultura motoristica. A fianco a questo devo dire che inaugurazioni come quelle di questa mattina, di una vera e propria pista legata soprattutto ai più giovani, devo dire che è un bel segnale. I ragazzi devono imparare che per poter andare forte o provare certe brezze non lo devono fare su strada ma lo devono fare su piste come queste. Voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Tavuglia perché qui siamo all'interno del comune di Tavuglia ma soprattutto il motoclub Benelli di Pesaro che attraverso una serie di giovani, di loro iscritti hanno deciso di gestire questa pista. Quindi come gestione diciamo che dipende dal motoclub Benelli, sarà solamente per le persone che sono iscritte alla federazione che quindi avranno coloro che andranno a girare avranno anche una copertura assicurativa. E dopo il ritorno in zona zalla avvenuto la scorsa settimana continuano ad arrivare buone notizie in ottica contagi dalle comune di Vallefoglia. L'amministrazione infatti ha confermato che i numeri riguardanti i contagiati all'interno delle comune sono decisamente calati negli ultimi giorni. Anche se resta sempre fortemente raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni in atto. Le persone si stanno comportando direi bene, occorre andare avanti con i vaccini perché come si è visto in una settimana con i vaccini, evitando gli assembramenti, mantenendo la mascherina, mantenendo le distanze e facendo igienizzazione passiamo da 95 contagi a 59, quindi 36 contagi in meno. È evidente che significa che tutti devono fare, anche se non è obbligatorio, il vaccino e poi mantenere quelle regole fondamentali per evitare di ricadere, come ho detto più volte, oramai in zona arancione o tanto peggio in zona rossa. Gli esempi sono tanti in Italia che da zona bianca sono ritornati addirittura arancione oppure peggio ancora in zona rossa. Quindi mantenere grande attenzione e guardare avanti perché insomma abbiamo bisogno di rifare la vita normale a cominciare dall'estate. Il Comune guarda avanti soprattutto per i giovani, nuovi progetti per le biblioteche, nuovi progetti per le scuole, per un futuro sempre più rosio. Stiamo lavorando sul Comune, sul teatro, i lavori della biblioteca per rimettere a nuovo la biblioteca, stiamo lavorando su un progetto per le nuove generazioni, anzi due progetti che coinvolgono i ragazzi nel lavoro, la formazione, i lavori socialmente utili, l'applicazione di un'ordinanza sul decoro con la legge regionale e i finanziamenti della Regione e stiamo lavorando per far funzionare il tavolo per l'occupazione, il lavoro, la crescita e la formazione professionale insieme alla Regione perché puntiamo all'occupazione, all'occupazione giovanile, alla piena occupazione e ad una ripresa ancora più veloce della competizione internazionale. stiamo lavorando anche per costruire nel polo scolastico, diciamo parafrasando della cantina sociale della Morciolla, una scuola di alta formazione professionale per la competizione internazionale per formare giovani manager, per rendere le nostre imprese sempre più competitive nello scenario europeo e nello scenario internazionale. Quindi, come si vede, siamo in piena attività. E ora concludiamo parlando di sport. Un inizio play-off migliore di questo non poteva augurarselo la Megabox e Vallefoglia. La squadra di coach Fabio Bonafede strappa di forza una preziosa vittoria in E4-7 sul campo di un Evolley Soverato molto tenace e che darà di certo filo da torcere alle Tigri anche nella gara di ritorno a Vallefoglia in programma domenica 16 maggio alle ore 17. Soverato però sarà costretta a vincere 3-0 o 3-1 per guadagnare lo spareggio al Golden 7. Qualunque altro risultato, compreso una sconfitta alle tie-break, consentirebbe la Megabox il passaggio del turno. Alle termine della sfida lo stesso Bonafede si è detto soddisfatto della partita giocata e ha fatto i complimenti alle sue giocatrici, ribadendo però come manca ancora una gara di ritorno da giocare. Ed era questa l'ultima notizia di questo nuovo appuntamento con il Evollefoglia Magazine. Io vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi ricordo che tutte le puntate delle Evollefoglia Magazine, come tutta la programmazione di Rossini TV, è disponibile sul nostro sito www.rossinitv.it. È disponibile da ormai diverse settimane la nostra app Rossini TV, scaricabile sia sugli store Android che sugli store Apple. Vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 21 di maggio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.